Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro col video. Vi ho parlato proprio la settimana scorsa del caso di Maria Teresa Dell'Unto, uccisa da Angelo Stazzi. Come vi ho già detto nel precedente video, l'uomo è stato condannato a 24 anni di reclusione e questa sentenza è diventata definitiva perché è confermata anche in Cassazione. Ma la storia processuale di Angelo Stazzi non è finita qui. Nel 2009, mentre le indagini per l'omicidio di Maria Teresa Dell'Unto erano ancora in corso, l'infermiere lavorava a Villa Alex di Sant'Angelo Romano, una struttura che eroga servizi di tipo sanitario e socioassistenziale ad anziani non più completamente autosufficienti che, pertanto, non possono più risiedere presso il proprio domicilio o presso le proprie famiglie. Il telefono di Villa Alex era stato messo sotto controllo proprio a causa delle indagini su Angelo Stazzi e dalle intercettazioni emerge che nella struttura erano avvenute delle morti sospette. I sospetti cadono proprio su Angelo Stazzi, accusato di essere l'assassino di anziani inermi. Sono state registrate molteplici informazioni, alcune di esse significative, per attribuire ad Angelo Stazzi la responsabilità di questa serie inspiegabile di malori e di decessi avvenuti ai danni degli ospiti di Villa Alex. Già nel primo mese di intercettazioni, gli inquirenti iniziano a percepire qualcosa di strano. Ascoltano infatti una chiamata tra Stazzi e un socio di Villa Alex, Hamid. Stazzi dice al socio di Villa Alex, Senti, qui è successa una cosa strana Hamid, è diventata tutta quanta nera. La lingua gonfia. Hamid chiede, respira o non respira? Stazzi ribatte, poco, fa appena un filo di respiro, comunque tutta quanta nera, gonfia come una zampogna. Hamid ribatte, respira appena appena e cosa significa? Stazzi risponde, che sta per morire proprio. L'ispettore della squadra mobile spiega che, poiché in questa struttura dimoravano persone molto anziane, pensavano che queste morti fossero in un primo momento dovute a un fisiologico decadimento della persona fisica. Ma, con l'andare avanti dell'attività di ascolto delle intercettazioni, cominciano a sentire gli stessi operatori di Villa Alex che iniziano a interrogarsi sulla stranezza di alcuni malori occorsi ad alcuni ospiti di Villa Alex. Gli investigatori scoprono infatti che gli operatori di Villa Alex notano un fatto molto strano, ovvero che tutti i pazienti colpiti da malore hanno in comune un sintomo, l'ipoglicemia. Il primo episodio si verifica il 31 luglio 2009 e riguarda la signora Carmela Antonelli. La nipote di Carmela, Antonella, viene chiamata da Villa Alex il giorno stesso. Le viene detto che sua zia ha avuto un colpo di calore ed è stata ricoverata in pronto soccorso a Tivoli. La donna, a sua volta, chiama l'amministratore di Villa Alex. Dino, Antonella dice So che c'è un problema con mia zia, stavamo andando su in ospedale, ma andiamo su in ospedale o passiamo prima da voi? Dino ribatte Ma tanto hanno detto che non c'è niente, c'è stato qualche problema di calo sale, persone col caldo, e poi abbiamo chiamato al pronto soccorso, veramente ha chiamato Angelo. Ha risposto una dottoressa, dice Dalla TAC non risulta niente. Antonella risponde Adesso facciamo un salto su così la vediamo un attimo, la tranquillizziamo anche lei e poi casomai ci risentiamo. Antonella quindi si reca all'ospedale di Tivoli ed è tranquilla, rassicurata dalle informazioni che aveva ricevuto da Dino, che le aveva detto di non preoccuparsi perché si era trattato di un semplice colpo di calore. Appena arrivata apprende invece che sua zia si trova in coma e sta per morire. Non reagiva a nessun tipo di stimolo. Le era stato diagnosticato un coma ipoglicemico dovuto, secondo i medici, a una dose di insulina eccessiva rispetto a quella che la signora Carmela probabilmente prendeva regolarmente. Ebbene, la signora Carmela non era diabetica, quindi non prendeva insulina. Antonella chiama quindi in clinica per sapere se stessero somministrando a Carmela una terapia di cui lei e gli altri parenti della signora non erano a conoscenza, ma le viene confermato che la zia non prendeva nessun medicinale. Era stato Angelo Stazzi a chiamare il 118 richiedendo soccorso per Carmela Antonelli. Ed è interessante il dialogo avvenuto tra Stazzi e l'operatrice del 118, durante il quale ha dimostrato una disgustosa insensibilità verso la paziente, fornendo solo un dato, l'obesità. Stazzi dice al 118, niente, una persona che peserà sui 160-170 kg, tutta assieme, mi è crollata. Ho preso la pressione, io sono un collega, ho preso la pressione e non si sente. È in stato di, non dico di coma, ma è semi-incosciente, ecco. L'operatrice del 118 chiede, quanti anni ha? Stazzi ribatte, una settantacinquena, pensa all'incirca, ottanta, calcola. L'operatrice chiede, di che soffre? Stazzi risponde, niente, soffre di, come posso dire, di Heizmer. Giuro, ha detto Heizmer, lo giuro. E l'operatrice ribatte, Alzheimer. E Stazzi ribatte, Alzheimer, sì, digli di mandare dei colleghi belli e robusti, che se no non gli ha fama a tirarla su. Conclude, tra l'altro ridacchiando. La signora Carmela Antonelli morirà all'ospedale di Tivoli nove giorni dopo. Gli inquirenti a questo punto identificano le vittime, sono sette in totale. A tutte queste persone era stata diagnosticata una grave ipoglicemia, determinata dalla somministrazione di farmaci, con conseguente coma ipoglicemico ed eccesso, anche a distanza di pochi giorni. La circostanza che fa insospettire ed allarmare gli organi investigativi è l'estrema concentrazione di questi malori ed eccessi in un arco temporale ben ristretto, oltretutto coincidente con l'attività lavorativa espletata da Angelo Stazzi all'interno di Villa Alex. Giorgio Ferrante muore il 23 luglio del 2009. Il 20 luglio la figlia del signor Ferrante era stata chiamata da Dino Gaudio, amministratore di Villa Alex. Dino aveva informato la figlia di Gregorio Ferrante che l'uomo era in coma e dunque sarebbero dovuti andare in ospedale a Tivoli. Una volta arrivata in ospedale la donna vede suo padre già intubato. Il 21 luglio la dottoressa prende da parte i familiari di Gregorio e chiede quante insulina gli abbiano dato. Il signor Ferrante però non era diabetico e i suoi familiari non gli hanno mai somministrato insulina. Cutulè Maria Teresa era ospite presso la struttura perché suo figlio la ricoverava per un mese all'anno, ad agosto per l'esattezza, dato che la sua badante in quel periodo prendeva un mese di ferie. Il figlio, non potendola gestire da solo, la portava a Villa Alex. La mattina del 27 agosto il figlio di Cutule, Maria Teresa, riceve una chiamata da Villa Alex in cui lo avvisano che sua madre sta male. Il figlio si precipita sul posto e la vede priva di coscienza. Anche in questo caso il 118 viene chiamato da Stazzi che dice Allora senti mi servirebbe gentilmente un codice rosso, un'autombulanza a Villa Alex Sant'Angelo Romano. L'operatore ribatte. Che è successo a sta persona? Stazzi risponde niente, questa qui è una persona che è in semicoma, prima aveva la glicemia a 30, gliel'ho misurata e è andata a finire a 400. Però è incosciente, capito? Come in semicoma. La Maria Teresa viene portata in ospedale, il suo figlio segue l'autoambulanza per parlare poi col primario. Il primario dice all'uomo che c'è un calo della glicemia. Il motivo non è chiaro, ma deve essere successo qualcosa dentro alla clinica. Il figlio giustamente chiede, ma cosa può essere successo? Il primario non aggiunge nulla, ripete soltanto qualcosa è successo. Maria Teresa veniva sottoposta a delle analisi ogni anno, i risultati erano sempre perfetti. Aveva 93 anni ma non prendeva nessuna medicina. Gli stessi medici dell'ospedale di Tivoli non sapevano spiegarsi il motivo per cui, anche in questo caso, la glicemia non riusciva a stabilizzarsi, nonostante le infusioni glucosate che venivano somministrate alla signora. Pur avendo tentato fino all'ultimo di salvarla con questa terapia, il decesso di Maria Teresa avviene il 29 ottobre 2009, dopo due mesi di degenza. Emerge che Maria Teresa probabilmente aveva un tumore all'apparato genitale, tanto che i medici hanno inquadrato la sua situazione come ipoglicemia di natura paraneoplastica, in quanto a volte le forme tumorali possono produrre sostanze ipoglicemizzanti. Ma il PM insiste nelle sue accuse e mette in evidenza il comportamento disinvolto dello Stazzi nell'eseguire le prescrizioni mediche per quanto riguarda la signora Maria Teresa Coutulè. In una conversazione tra Stazzi e il socio di Villa Alex si sente chiaramente che il primo ha somministrato delle gocce di serenase, solo che poi era finito, quindi decide di somministrare alla signora 15 gocce di rivotril. Sappiate che questa situazione è gravissima perché serenase e rivotril sono due farmaci diversi. Il serenase contiene il principio attivo dell'aloperidolo, mentre il rivotril ha come principio attivo il clonalzepam. Quindi la signora Coutulè era morta dopo due mesi di diligenza in ospedale, ma nel frattempo in questi due mesi a Villa Alex sono deceduti altri due ospiti. La signora Candidi Caterina nel dicembre del 2009 ha un malore in chiesa e la notizia si apprende durante l'ascolto di una conversazione telefonica. L'amministratore di Villa Alex Dino spiega alla figlia di Caterina Candidi che sua madre era in chiesa che stava sistemando dei fiori quando a un certo punto si è accasciata e ha iniziato a dormire in chiesa. A quanto pare russava anche. Gli sorge però un dubbio, e se la signora Caterina sta avendo un infarto? Per sicurezza dunque chiama l'ambulanza per trasportarla al pronto soccorso. Il valore della glicemia cambia vertiginosamente in poco tempo. Quando gliela misurano alla clinica Alex è 105-109, ma quando viene portata in ospedale la glicemia risulta a 26. Inizialmente in ospedale si presume che ci sia stato un errore di somministrazione di farmaci. Quindi anche in questo caso credono che per errore sia stata somministrata alla donna dell'insulina che ha provocato nella donna uno shock ipoglicemico. La stranezza però è che nonostante la sospensione del farmaco la glicemia sale con molta difficoltà. Quindi vengono eseguite delle analisi per verificare se il quantitativo di insulina sia stato così elevato da provocare uno scompenso nel metabolismo della donna, difficilmente recuperabile. Viene quindi effettuato un prelievo del sangue e viene individuata l'insulina in una concentrazione molto elevata. Questa concentrazione è idonea a causare la morte, specialmente in un organismo deperito dall'età. Ma, contrariamente alle aspettative, canne di Caterina torna a Villa Alex, si era salvata. Ma Angelo Stazzi le inietta nuovamente la stessa sostanza in dose maggiore, così la donna muore il 7 ottobre del 2009. Riassumendo, da fine luglio a ottobre 2009, quattro sono state le morti sospette avvenute a Villa Alex e in comune hanno tutte l'ipoglicemia causata da somministrazione di insulina. Ma soprattutto queste morti sono avvenute dopo che Angelo Stazzi è stato assunto a Villa Alex. Tutti i sospetti si concentrano su di lui, anche perché è l'unico infermiere specializzato nelle condizioni di stare a contatto con gli ospiti di Villa Alex e di avere libero accesso ai farmaci. Angelo Stazzi, con i degenti, talvolta era una persona disponibile, ma altre volte era rude e scortese, tanto che gli anziani non volevano che fosse lui a curarsi di loro e a somministrargli le terapie. Nei confronti dei colleghi la situazione è ancora più critica. Angelo Stazzi si comportava in modo arrogante con gli inservienti e si sentiva superiore a tutti. I colleghi di Stazzi erano arrivati a ipotizzare che l'uomo portasse Iella, ovvero sfortuna, ma mai si sarebbero immaginati che Stazzi fosse un angelo della morte. Secondo il pubblico ministero non è di certo la sfortuna d'aver provocato un'altra morte a Villa Alex, ossia quella di Evaristo Massardi. L'uomo era un 89enne, definito da chi lo conosceva un toro, quindi non aveva patologie particolari che potevano portarlo alla morte, ma alle 6.45 del 6 ottobre del 2009 Evaristo muore e non per cause naturali. La morte del signor Massardi avviene a Villa Alex, anche tale evento è conseguente all'assunzione di dosi massicce di farmaci. Massardi non era diabetico e non era in cura con l'insulina, ma anche in questo caso ci sono dei valori davvero ballerini. Era passato da avere i valori a 130-140 che poi sono crollati a 38. Qualcuno ha iniettato dell'insulina a lento rilascio ad un soggetto a cui non poteva fare altro che danni. Il decorso causale che ha provocato la morte di Massardi non solo è caratterizzato da una condizione di ipoglicemia, ma anche dalla sinergia di due farmaci neurolettici, ossia la promazina e la mirtazapina, quale con causa del decesso. Questi due farmaci non dovevano essere presenti nell'organismo di Massardi perché non facevano parte della sua terapia e se anche ne avessero fatto parte non sarebbero stati evidenziati nel dosaggio in cui sono stati trovati. Ma l'episodio più eclatante, capace di superare ogni dubbio sulla volontarietà della condotta dell'imputato e sulla riconducibilità a lui di questo particolare modo di uccidere attraverso l'insulina, è costituito dall'uccisione di un cane. Ma ora vi spiego subito. Nel corso di una intercettazione ambientale fatta all'interno dell'autovettura di Angelo Stazzi, gli inquirenti registrano un'operazione particolare ossia la somministrazione di una forte dosaggio di insulina nel corpo di un cane di piccola taglia. Questo cane apparteneva alla signora Incecchi Maria Teresa, ospite della struttura di Villa Alex. Era stata autorizzata a tenere con sé nella struttura la bestiola poiché soffrendo di Alzheimer il cagnolino costituiva una sorta di sollievo dato che la sua presenza riusciva a calmarla. Maria Teresa veniva chiamata la poliziotta perché suo figlio era in polizia. L'intercettazione rappresenta una chiamata tra Angelo Stazzi e suo figlio. L'uomo gli dice «Sto cane qua ad esta poliziotta, caca in ufficio, caga dappertutto, io qualche giorno di questi a sto cane lo acchiappo e lo butto a rassecchio. Quando lei non lo vede lo butto e va a fanculo». In una seconda intercettazione, questa volta Angelo sta parlando con suo fratello. Si sente l'infermiere che dice «Beh, tu ci credi? Allora, gli ho fatto due seringhe di insulina al cane». Che con una seringa di insulina, ma non quelle seringhine, quelle grosse, ci ammazzi una persona, no? Oh, non gli ha fatto un cazzo. In effetti alcune persone presenti nella clinica si rendono conto che quel cane non stava bene, era sotto un albero e stava sbavando. Viene quindi portato dal veterinario che, dopo averlo visitato, ipotizza un avvelenamento. Al cane viene fatta una flebo, poi viene riportato a Villa Alex, dove morirà durante la notte, purtroppo. In questo caso, però, c'è un salto logico troppo grande. Perché un conto è un cane, e un conto è una persona, dunque non è qualificante come elemento indiziario. Ma come si sono comportati i soci della casa di riposo di Villa Alex di fronte a tutte queste morti sospette? Ebbene, i soci mettono tutti i farmaci sotto chiave, soprattutto l'insulina. Uno dei soci, Dino, dice a processo che ha addirittura pensato che Angelo Stazzi non fosse più in grado di fare il suo lavoro, ma mai ha pensato né sospettato che queste morti dipendessero da lui. In una conversazione telefonica, però, si sente il socio di Villa Alex e l'amministratore che parlano a proposito del malore di Candi di Caterina. Il socio di Villa Alex dice lui è rincoglionito, lui è rincoglionito, bisogna vedere se è infermiere veramente o non è infermiere. Non mi fido, c'è qualche cosa che non va, non può essere che tutti così con una crisi ipoglicemica. Non era successo mai dal 1992 che abbiamo aperto fino adesso. Alla luce di questa conversazione telefonica, a differenza di ciò che viene raccontato in aula, emerge che probabilmente si erano già resi conto di quello che stava avvenendo. Così il socio ritratta ciò che ha affermato precedentemente dicendo eravamo un po' sull'alto là, abbiamo preso precauzioni. Va bene, hanno in effetti messo sotto chiave l'insulina. Ma perché non hanno allertato le forze dell'ordine? Insomma, è chiaro che avessero dei forti dubbi su Stazzi, ma non avevano la certezza matematica per fare una denuncia per allontanamento, perché rischiavano a loro volta una denuncia per calunnia. A questo punto Angelo Stazzi viene controllato un pochino di più. Poi però il socio di Villa Alex chiede all'amministratore che Stazzi venga allontanato. Decidono dunque di licenziarlo, ma in aula negano che il licenziamento sia dovuto alle morti avvenute a Villa Alex. Stazzi però gioca d'anticipo perché si autodimette prima del tempo dicendo che si sospettava avesse un tumore al pancreas. Stazzi dice al socio di Villa Alex che è stanco, che mangia ma dimagrisce, insomma dice che non ce la fa più, che preferisce restare a casa a occuparsi dei suoi nipotini. In realtà non solo Stazzi non si ritira a fare il nonno a tempo pieno, ma oltretutto si fa assumere a tempo pieno presso un'altra casa di riposo, Villa Grenga di Fonte Nuova. E anche qui si rende protagonista di un altro episodio. Viene segnalato agli inquirenti un episodio di flagranza di somministrazione dell'insulina da parte di Angelo Stazzi nei confronti di un'anziana ospite di Villa Grenga. A questo punto il compito del procuratore è quello di indicare il plausibile movente che ha spinto e guidato la mano assassina di Stazzi. Il movente che ha spinto l'uomo era quello di provare il brivido di tenere una vita umana nelle proprie mani, di decidere se spezzarla oppure no. Nulla a che vedere con l'eutanasia caritatevole. Quindi la vicenda di Stazzi, seppur peculiare, rientra a parere dell'accusa a pieno titolo nella categoria degli omicidi lucidamente preordinati, seriali, il cui movente è semplicemente dettato da un animo crudele e narcisistico. Il PM chiede quindi che Angelo Stazzi si è dichiarato penalmente responsabile di tutti gli omicidi contestati. Il PM ritiene che la pena dell'ergastolo sia l'unica adeguata per la gravità di questi fatti di sangue, di cui Angelo Stazzi si è macchiato. Angelo Stazzi viene ritenuto colpevole degli omicidi di cinque pazienti, Carmela Antonelli, Maria Teresa Cutule, Caterina Candidi, Evaristo Massardi e Giorgio Ferrante. Viene condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per sei mesi. Questa sentenza di primo grado emessa il 25 giugno 2015 è stata in parte modificata dalla Corte d'Appello. Angelo Stazzi viene assolto per quanto riguarda la morte di Carmela Antonelli, Giorgio Ferrante e Cutule Maria Teresa, mentre viene confermata la sua colpevolezza per la morte di Caterina Candidi ed Evaristo Massardi. Anche in questo caso viene condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno di sei mesi. La Cassazione conferma questa sentenza di condanna. Detto questo, io ho finito di parlare in questo video. Fatemi sapere se conoscevate questo caso per intero, insomma, se conoscevate il caso sia di Maria Teresa Dell'Unto sia di Angelo Stazzi, effettivamente Angelo della Morte. Io non la conoscevo, non lo sapevo, almeno sapevo di Maria Teresa Dell'Unto. Non sapevo però che fosse stato condannato all'ergastolo per questi crimini. Non ne avevo idea. Quindi fatemi sapere se conoscevate questo caso e fatemi sapere chiaramente cosa ne pensate e come al solito ci becchiamo nei commenti. Detto questo, io vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma come già vi ho detto, mi raccomando, godetevi queste feste che tanto lo so che sono piene di pranzi, eccetera, eccetera. Quindi godetevele, statemi bene, ricordatevi di prendervi cura di voi e di fare ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Grazie a tutti.